Ti voglio leggere un passaggio del libro di Alan Watts, La via dello Zen, che dice così Nel camminare, camminate. Sedendo, sedete. Soprattutto non tentennate, poiché la qualità essenziale della naturalezza è la sincerità della mente, indivisa, che non oscilla fra alternative. In sostanza che cosa ci vuole dire Watts? Ci vuole dire che dobbiamo fare le cose nella pienezza del momento. Quindi non che stiamo facendo una cosa come ci capita molto spesso e nel frattempo pensiamo a tutt'altro. Facciamo quello. Se stiamo camminando, stiamo facendo quello. Invece molto spesso ci capita di camminare col cellulare in mano, pensando a migliaia altre cose. Invece no, camminiamo. Ecco, diamoci io stessa degli obiettivi in cui almeno una cosa nella giornata la facciamo con pienezza, che può essere sto guidando, guido. Non ascolto la radio, non guardo il cellulare, non penso a migliaia altre cose, sto guidando. Cammino? Perfetto. Sto facendo palestra? Sono nel qui ora del momento a fare palestra e sto facendo quello. Quindi senza alternative, senza tentennare, senza fare il classico multitasking, che è proprio l'esatto opposto di quello che si insegna nella mindfulness. Perché la mindfulness è la capacità di stare nel qui ora del momento presente, presenti nell'attività che si sta facendo. Invece il multitasking prevede mille cose fatte tra l'altro non benissimo e non nella presenza e nella consapevolezza. E questo ovviamente genera ansia. Quindi facciamo proprio questo esercizio tutti quanti insieme, almeno una volta al giorno, un'attività fatta nella pienezza, godendoci quell'attività. Anche semplice, anche lavare i piatti, per esempio, ma godendoci quell'attività.